Buongiorno a tutti, allora in questo video fallo temere di perderti. Quali sono le strategie che tu puoi utilizzare se vuoi farlo temere di perderti, se vuoi farlo pensare che potrebbe comunque perderti. E' molto importante questo perché nel momento in cui una persona pensa a paura di perderti, automaticamente il suo sistema mentale gli fa pensare di essere innamorato di te, perché noi come esseri umani giudichiamo, diciamo così, automaticamente la paura di perdere qualcuno sulla base proprio di se temiamo o meno di perderlo. Prima però iscriviti al mio canale YouTube Massimo Terramasco, seguimi sul canale, guarda tutti i video, ce ne sono più di 23.000 e ti daranno la possibilità di migliorarti, insomma, da un punto di vista sentimentale e effettivo. Quindi iscriviti al canale YouTube Massimo Terramasco e anche agli altri miei canali, crescita personale, felicità benessere, amore autostima. Allora, ma veniamo al tema, fallo preoccupare di perderti. Allora, quindi è fondamentale, anche in una relazione di lungo termine, lasciare sempre, possiamo così dire, un dubbio che tu potresti sparire, che non sei data per scontata. Ecco, questa è la cosa fondamentale. Nel momento in cui una persona ti dà per scontata, automaticamente si disinnamora. Nel momento in cui una persona pensa che tu, nonostante tutto, resterai sempre con lui, sempre e comunque, inizierà ad avere paura di perderti. Inizierà, diciamo, temerà di perderti. Nel momento in cui penserà che ci saranno delle situazioni, diciamo così, negative. Invece, nel momento in cui penserà che tu potresti comunque andartene, anche se ti dà le briciole. Perché poi ci sono situazioni in cui una persona ti dà le briciole, neanche si tratta di relazione vera e propria. Si tratta di una situazione in cui veramente una persona ti dà le briciole e sembrerebbe, sembra completamente disinteressato, non ai tuoi confronti. Ci sono relazioni in cui veramente lo vedi al parcheggio del cimitero, al giovedì sera, e lui non dà nessun segno di coinvolgimento. Ma non dà nessun segno di coinvolgimento proprio per il fatto che tu gli dai le garanzie, tu gli dai le certezze di essere sempre presente. E questo è il concetto di fondo, quindi è molto importante generare di questa preoccupazione. Ripeto, la preoccupazione si manifesta non soltanto nelle relazioni importanti, ma anche nelle relazioni, diciamo, invece appena nate. Insomma, o nelle relazioni in cui non c'è veramente un, come dire, un impegno reciproco. Questo è fondamentale, è fondamentale. Quali sono le modalità, diciamo, che si possono utilizzare per, le modalità che si possono utilizzare per farlo temere di perderti? Beh, la prima cosa che devi fare è evitare di essere appiccicosa, perché nel momento in cui ti manifesti come appiccicosa, nel momento in cui ti manifesti come appiccicosa, assolutamente non potrà temere di perderti. Questo è comunque un dato di fatto, no? Se tu fai la malgacozza e gli dai, diciamo, e gli stai sempre appiccicata, è evidente che non temerà di perderti. E come fai a temere di perderti qualcosa che ti sta sempre appiccicato, che non si toglie mai dai maroni? Quindi, prima cosa, evita di essere appiccicosa. Cercalo poco. Devi cercarlo poco. Devi iniziare a... Che non vuol dire che non devi cercarlo per nulla, ma devi cercarlo poco. E soprattutto devi aspettare che sia lui a cercare te. Questo in una relazione, diciamo, che si può sviluppare in modalità diverse. E ogni volta che ti cercherà, tu dovrai... Se è una relazione, qua bisogna fare una differenziazione tra relazione, diciamo, così ci vediamo ogni tanto, oppure relazione più solida, magari legata a una convivenza o qualcosa del genere. Se è una relazione e ci si vede ogni tanto, tu devi, tu donna, diciamo, devi evitare di cercarlo. E se non ti cerca lui, niente. Piuttosto mangi merda, ma non lo cerchi. Nel momento in cui lui ti cerca, rispondi, diciamo. Anche qua, scrivendo meno parole di quelle che scrive lui, scrivendo meno, diciamo, di quello che fa lui. Quindi devi fare meno di quello che fa questa persona. Devi fare di meno. Devi aspettare che sia lui che ti cerchi. E attendere anche che sia lui a invitarti a vederti. Se non ti invita, niente, non devi fare assolutamente niente. Tu devi ricoprire un ruolo totalmente, diciamo, da questo punto di vista, in rimessa. Lui deve pensare e poi, se ti invita, almeno, se ti invita, una volta o due su quattro, devi dirgli di no, che hai un altro impegno. Magari posticipando la data, potresti dire, no, guarda quel giorno lì non posso, e li metti magari un altro giorno. Tra l'altro, poi ci sono nelle relazioni a distanza. È evidente che l'altra persona, se ti cerca poco, ha un'altra relazione. Questo è evidente, no? Se ti cerca poco, è perché ha un'altra relazione. È evidente. Perché nelle relazioni a distanza è facile avere relazioni multiple. Quindi, nelle relazioni a distanza, se ti cerca, ti dice, ci vediamo, che ne so, giovedì al parcheggio del cimitero, tu gli dici, no, giovedì non posso, posso sabato, ad esempio. E li metti un giorno che magari è, diciamo, li metti un giorno che magari è, sai che a lui magari potrebbe avere la storia ufficiale. E se no ti neghi, se no ti neghi. Quindi, nelle relazioni in cui c'è già una relazione in corso, le cose cambiano. Ma dipende cosa vuol dire relazione in corso. Perché se sei fidanzati, ma ci si vede una volta, se sei fidanzati e ci si vede una volta, diciamo, o due alla settimana, è una relazione, il fidanzamento ce l'hai soltanto, ce l'ha soltanto nella testa chi pensa. Perché a volte ci sono persone che mi dicono, ah, io sono fidanzata, e quanto volte vedete? Ma una volta a settimana, due volte a settimana, quello non è un fidanzamento, quello è, come dire, un accompagnamento, no? Un fidanzamento prevede magari non una convivenza, ma una frequenza quotidiana con quella persona. Per fare diverse cose, per diversi eventi. Se no, non è un fidanzamento. Se no, è semplicemente, se due persone si vedono, che ne so, il sabato sera, per dire, basta, o una o due volte a settimana, dicono di essere fidanzati, sì, magari non hanno altre relazioni, ma in realtà non sono fidanzate, perché non si conosceranno mai. Il fidanzamento, per definizione, dovrebbe essere un qualcosa che poi porta alla convivenza o al matrimonio, altrimenti non è fidanzamento, diciamo, è una sorta di promessa di matrimonio, promessa di convivenza, altrimenti non è fidanzamento. No, qua spesso le persone fraintendono, e quindi fidanzamento vuol dire che le persone devono frequentarsi in più circostanze tutti i giorni, insomma. L'unica differenza è che non convivono assieme ancora, però deve essere quello. Altrimenti è soltanto. Invece in una relazione dove c'è convivenza, dove c'è magari proprio una relazione già consolidata, o un fidanzamento, comunque essere appiccicosi va sempre evitato di farlo, perché se ti comporti come appiccicosa, se ti comporti come quando appiccicosa, da appiccicosa vuoi sempre stare attaccata, non va bene. È importante prendersi degli spazi, e soprattutto per quanto riguarda la donna, lasciare al maschio che si muova. Il secondo punto fondamentale per fargli temere di perderti è evitare di dargli sicurezze. Cioè, non devi evitare, o comunque non devi dare sicurezze da un punto di vista neanche logico e razionale. Cioè, se tu gli dici ti amerò per sempre, qualunque cosa succeda io ti amo, io sono sempre pronta per te, per te mi getterei nel fuoco, è evidente che questo non li fa, è una sicurezza eccessiva. Le sicurezze, cioè anche conclamazioni fondamentali, diciamo, vanno somministrate quando la persona fa qualcosa, quando la persona fa qualcosa, diciamo, quando la persona fa qualcosa, e, diciamo, quando la persona fa qualcosa, di positivo verso di te, cioè soddisfano la tua esigenza. Oggi, poi, spesso succede che molte relazioni, diciamo, si mantengano in modo virtuale, no? Due dicono, abbiamo una relazione a distanza, poi ci vediamo una volta al mese, ma manteniamo sempre un contatto virtuale. Ora, il contatto virtuale, lo scriversi, la cosa, è fuffa, diciamo così. Da un certo punto di vista è relazionale, è fuffa, perché con un fidanzamento non può avere nulla a che fare, no? Se ha a che fare con fuffa, è soltanto fuffa, perché il fidanzamento dovrebbe essere una conoscenza finalizzata, appunto, una convivenza. Poi ci sono anche, sento ogni tanto persone che dicono, ah, io sto con un narcisista, allora, se tu sei consapevole di stare con un narcisista e ci stai, sei stupida. Cioè, le persone che stanno con un narcisista sapendo di avere a che fare con un narcisista sono stupide, dovrebbero chiudere immediatamente la relazione. Quando sai che hai a che fare con un narcisista, devi chiudere la relazione, non devi andare avanti, devi semplicemente chiudere la relazione. Questo è un fatto fondamentale, cioè va chiusa la relazione, perché altrimenti vivrai solo stati di sofferenza. Come dire, se ti accorgi che stai mangiando merda, smetti di mangiarla, vai a mangiarti un risotto, vai a mangiarti qualcos'altro, ma non continuare a mangiare merda essendo consapevole che stai mangiando merda. Quindi, evitare di dare sicurezza, la sicurezza deve essere lo zuccherino, la gratificazione in risposta a quando questa persona si mette a complementare quelle che sono le tue esigenze. Questo è un altro punto fondamentale. Altra cosa che devi imparare a fare è evitare di essere troppo disponibile. La disponibilità va bene, perché in una relazione essere disponibili va bene, ma essere sempre disponibili, scattare sempre sull'attenti quando l'altra persona non ti dà la stessa disponibilità non va bene. Anche la disponibilità è una merce di scambio. purtroppo sembra brutto dirsi in una relazione sentimentale-affettiva sentimentale-affettiva una persona è troppo disponibile e l'altra non è disponibile. Poi, alle volte, sempre parlando di narcisisti, mi viene in mente alcune persone dicono sono consapevole ma non riesco a uscirne. Basta fare un atto di coraggio. Per chiudere con un narcisista ci vanno 30 secondi. Chiudi la relazione, punto, e sparisci. Ti vivrai la sofferenza iniziale ma ti dedichi ad altro e questo è fatto. Se uno ha paura, tanto come dire, uno coglione almeno quanto quello lo trovi sicuramente dappertutto. Quindi, per chiudere le relazioni quando capisci che non vanno basta fare un atto di coraggio. Appunto, anche se sei tu eccessivamente disponibile e l'altra persona non ti dà disponibilità, anche questo non va bene. Anche questo non funziona e non va bene perché la troppa disponibilità non porta ad essere la troppa disponibilità a senso unico ti fa dare per scontata, ti fa dare come una che comunque c'è. In ogni caso le persone vanno riconosciute, le persone tossiche vanno riconosciute, è fondamentale riconoscere le persone tossiche sui narcisisti e ho fatto tantissimi video sul mio canale YouTube Massimo Terramasco ma anche sugli altri canali YouTube Crescita Personale Felicità Benessere quindi chi volesse approfondire quel tema del narcisista va a cercarseli sul canale YouTube Massimo Terramasco o anche Crescita Personale e trova tutte le tematiche trattate sui narcisisti ci sono veramente tante ecco quindi evitare di essere troppo disponibili è un altro punto molto molto importante altra cosa fondamentale altra cosa fondamentale se vogliamo se vuoi farlo preoccupare di perderti è diciamo iniziare a diventare più fantasiosa diventare più fantasiosa cosa vuol dire diventare più fantasiosa anche da un punto di vista erotico sviluppare più fantasia sviluppare più fantasia cosa vuol dire sviluppare più fantasia vuol dire che se tu cadi nella routine lo fai sempre al suo modo sempre al suo modo sempre diciamo alla stessa ora sabato sera devi diventare imprevedibile devi deve pensare che in queste tue fantasie potresti svilupparle anche con altre persone e quindi magari che ne so ti metti gnocca in tiro quando esci non con lui quando esci con degli amici gli dici che uscirai uscirai con con altre persone questo è un altro modo per iniziare a dare degli stimoli e iniziare a fare in modo che l'altra persona non non ti dia per scontata perché poi ci sono quelli che pensano di tenerti legata mandandoti dei messaggi no ti mandano dei messaggi e poi fanno puri gelosi diciamo ma tutto per messaggio però poi non si pida nell'impegno con queste persone qua devi chiudere bisogna chiudere immediatamente perché l'unico modo è sanzionarli con l'abbandono perché è evidente no se io voglio mantenere delle relazioni soltanto via messaggio ma senza vedere nessuno posso posso averne anche 50 in parallelo tanto a mandare messaggini come dire magari copia e incolla ci va veramente poco tempo no chi ci vuole mandare messaggini in 10 minuti ne mandi 50 di copia e incolla quindi non 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 diciamo non non è nulla quindi con queste persone che mantengono sempre la distanza basta chiudere basta chiudere somministrare abbandono basta somministrare abbandono allontanarsi e mettere degli antagonisti l'utilizzo ecco l'utilizzo degli antagonisti per farlo temere di perderti è fondamentale perché se non ci sono antagonisti non avrà mai paura di perderti ora l'utilizzo degli antagonisti va utilizzato nel modo corretto cioè devono essere gli antagonisti a cercare te non deve essere non deve essere diciamo non deve essere tu a cercare gli antagonisti cioè lui non deve percepire che sei tu che corri dietro ad altri uomini ma che c'è un come dire ci sono orde orde selvagge orde di uomini che ti cercano ci sono frotte di uomini che ti desiderano e questo è quello che devi imparare a fare e questo è quello che devi imparare a fare gli antagonisti sono fondamentali perché nel maschio vige proprio la competizione il maschio ha proprio questa caratteristica della competizione poi va bene sugli antagonisti ci sono diversi diverse modalità diciamo che si possono utilizzare ne parlo sempre sempre sui miei canali youtube quindi adesso che ti iscrivi ai canali youtube massimo terramasco crescita personale felicità benessere amore autostima troverai tantissime cose sugli antagonisti e su come utilizzarli perché gli antagonisti se utilizzati nel modo giusto portano dei risultati se non vengono utilizzati nel modo giusto non portano dei risultati o non portano dei risultati positivi quindi è importante utilizzare gli antagonisti nel modo corretto e un'altra cosa che appunto devi fare per diciamo fargli temere di perderti è fare comunque focus su te stessa focus su te stessa cosa vuol dire che tu devi essere al centro tu devi essere al centro diciamo delle cose che tu devi essere al centro delle cose che ti interessano nella tua vita devi concentrarti su te stessa diciamo che può essere un po' di sano egoismo però è un qualcosa che vuol dire che io vengo prima dell'altro da un certo punto di vista no? ma ripeto poi in una relazione che si è sviluppata in un certo modo ci deve essere sicuramente uno scambio ma all'inizio quando inizia la relazione quando si inizia la relazione poi non c'è più possibilità di diciamo una volta che la relazione è iniziata anche ci può essere uno scambio maggiore una come dire altruismo maggiore ma il focus su se stessi va sempre mantenuto cioè anche in una relazione matrimoniale per dire le proprie passioni vanno mantenute e vanno mantenute anche dei momenti in cui esci con delle persone che lui non conosce cioè bisogna sempre mantenersi una fascia di amicizie che lui non conosce che lui non sa chi sono questo vale sia per l'uomo che per la donna mutanti e smutanti se vale per l'uno e per l'altro ci deve essere sempre una zona oscura nella tua vita questo è fondamentale perché se tutto è chiaro se la tua vita è chiara se lui sa esattamente tutto quello che fai da quando esci al mattino a quando rientri la sera beh ti darà comunque per scontata invece anche in un matrimonio in cui però c'è sempre una tua zona oscura in cui c'è sempre qualcosa che non sa cosa farai esattamente un gruppo di amici che non conosce un gruppo di persone che frequenti che non conosce un'attività che fai che non conosce ma può essere anche semplicemente può essere anche semplicemente andare può essere anche semplicemente andare in una palestra che lui non sa da chi la frequenta fare che ne so andare a fare uno sport giocare a tennis magari c'è il maestro di tennis per dire quindi è importante coltivare sempre delle amicizie è importante sempre coltivare delle amicizie che siano amicizie diciamo un po' compartimentistani no di cui lui non ha a cui lui non può avere accesso e a cui tu non devi fargli avere accesso puoi appunto anche semplicemente fare uno sport andare a giocare a tennis col maestro di tennis figo andare a fare questa è anche una cosa perché metti direttamente un antagonista se vai a giocare a tennis ti scegli un maestro di tennis figo e magari anche con la fama di seduttore beh può essere una cosa buona e giusta da questo punto di vista per diciamo mantenere attivo il timore che tu possa comunque fargli crescere perlomeno le corna sulla testa e questo timore lo manterrà attivo lo manterrà collegato perché se lui sa esattamente quello che tu fai tutto il giorno non si crea pathos non si crea tensione ricordiamoci sempre che se vogliamo far andare avanti una qualunque relazione è sempre necessario creare pathos creare tensione se non c'è tensione se non c'è tensione non si ottiene nessun risultato se non c'è tensione non si ottiene assolutamente nessun risultato cioè ottieni il risultato non ottieni il risultato positivo ottieni il risultato che ti darà per scontata poi un'altra cosa che andrebbe fatta è non gratificare troppo a livello logico ma alternare nel modo giusto gratificazioni e penalizzazioni questo è fondamentale gratificare e penalizzare è molto importante gratificare vuol dire soddisfare la tua esigenza penalizzare vuol dire non soddisfare la tua esigenza quindi gratificazione e penalizzazione vanno utilizzate secondo un metodo che si chiama rinforzo intermittente o condizionamento operante di bandura ed è lo stesso sistema che viene utilizzato nelle slot machine per far ossessionare le persone al gioco cioè perché andiamo a giocare alle slot machine cioè chi va a giocare alle slot machine o chi va a giocare al casino perché non è che al casino perdi sempre e non è neanche che vinci sempre ovviamente ma che hai la speranza di vincere ma ci sono tante perdite e quindi lo stesso deve avvenire e quindi questo genera un'ossessione genera un attaccamento verso questa situazione ed è la stessa cosa che tu devi utilizzare nelle relazioni le gratificazioni non devono essere costanti ma devono essere alternate alle penalizzazioni una penalizzazione può essere semplicemente un'assenza di gratificazione si aspetta di essere gratificato gratificato vuol dire che tu faccia una cosa che lui vuole ad esempio voglio gratificare una donna faccio un esempio da maschio la porto a cena al ristorante vatte la pesca che è il ristorante che a lei piace tanto la penalizzo non ce la porto oppure trovo una scusa e quella sera lì che c'era il diciamo quella sera che c'era l'appuntamento al ristorante vatte la pesca dico che ho un altro impegno per fare un esempio ma quella è la penalizzazione bene se seguite queste linee guida diciamo riuscirete a farlo temere di perderti e perché l'obiettivo ricordo di farlo temere di perderti perché noi percepiamo diciamo una persona percepiamo una persona che percepiamo una persona che sia diciamo percepiamo di essere innamorati di una persona quando temiamo di perderla se non temiamo di perderla non non abbiamo possibilità di credere di essere innamorati di quella persona bene quindi seguitemi sul canale iscrivetevi al canale youtube massimo terramasco sono anche su instagram pagina massimo terramasco e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti